Salve a tutti ragazzi sono Cicciobo11 e oggi siamo qua tornati in un nuovo video Oggi siamo sul terzo episodio sponsorizzazioni L'ultimo video abbiamo raggiunto 10 mi piace sponsorizzazioni Quindi io ve ne porto un altro Allora il primo da sponsorizzare che è Riccardo Gamer Allora lui fa video di Crash Royale, Crash of Clance Anche ha fatto un video horror Tipo questo, vediamo questo raga Lasciamo un bel like ovviamente Ah si l'applicazione, vabbè diciamo che non è Crash Royale però è un'applicazione che apri i bacchetti Però non trovi niente nel vero Crash Royale ovviamente Ovviamente raga, quest'ora era bellissimo Lui, va bene Vabbè raga se volete iscrivetevi a Riccardo Gamer Ha 74 iscritti quindi bravo Passiamo al prossimo canale Ok ragazzi passiamo al prossimo canale Xizotox, penso che si pronuncia così Allora raga lui fa video tutto Crash Royale No, alcune volte FIFA 17 Bellissimo Poi vlog, veramente è un bel canale Io ho visto qualche tre video raga Veramente belli Wow Vincere con una Con uno di vita Fortuna Lui edita bene raga Cioè questo lo devo dire Edita benissimo Lasciamo ovviamente un bel like Una rafà ha caricato un video Già 30 views Va bene, buono Sai zio ti dico una cosa Non è un'offesa però Non ti offendere però Hai 517 iscritti Uguale a me Cioè uguale a me Io ho 260 iscritti Che ovviamente non sono tutti attivi Tu hai 517 iscritti E i tuoi iscritti Dico ma non ti offendere zio Ma non sono tutti attivi Però Siamo come tutti gli altri perché Non devi avere ogni video 517 iscritti E 517 views Assolutamente Cioè è impossibile quasi Però Quasi 200 visual 100 visual ce l'hai Quindi complimenti lo stesso E anche io Anzi vi ringrazio 260 iscritti Ma attivi sono 70-80 Vabbè raga Vi ringrazio lo stesso Passiamo al prossimo canale Iscrivetevi a Xizotox Official E non vi ripetirete Ok ragazzi Possiamo al prossimo canale Terzo canale I'm Just Stampin' Spero che si pronuncia così Ok Lui fa video di code Raga Certa volta anche crash No FIFA Dio 7 GTA Questa cosa così E' un bel canale Gli usci un bel like Ovviamente Anche lui ovviamente Ha 200 E passa di iscritti Bravissimo Bravissimo anche tu E ovviamente Non sono tutti attivi Ma questo è normale Per tutti raga Perché Tipo ad esempio Raga PewDiePie Che ha 52 milioni E gli iscritti Secondo me Dico la mia Sono pazzi Però va bene Non sono tutti attivi Sono attivi 5 milioni 4 milioni Quindi raga E' normale Questa cosa Comunque Iscrivetevi I'm Just Stampin' E spero che si pronuncia così Lui è attivo Nel mio canale Lo ringrazio E possiamo al prossimo canale Iscrivetevi Non ve ne mentirete Ok ragazzi Possiamo al prossimo canale Kelbing Allora Come potete vedere Il Free chest opening E' pronto E ci sono tantissime novità In questi giorni Ok raga Si sta facendo Diciamo Tre virgolette Un pack opening Ragazzi Un free chest Un torneo Da 2000 gemme A 150 iscritti Il mio record di coppe E' cambiato Infatti il mio record E' diventato Di 3780 Grande bomber Grande Anche il boia Raga il boia è forte Poi Lui di Vi dirò Le statistiche Penso che già sapete Ma Ve lo dico Raga ve lo dico Si Hai ragione Bomber Hai ragione Però costa un po' troppo Questo lo devo dire Vabbè raga Iscrivetevi A Kelby Che fa Video Veramente bellissimi A mio parere E poi Non lo so E ho Solo 800 Anzi Solo Un bel po' 800 Si 800 Raga 85 iscritti Bravo Kelbing Fai anche video Editati bene Diciamo Iscriviti a Kelby Che non ve ne mentirete Passiamo al prossimo Che è l'ultimo Ok ragazzi Ora siamo Nell'ultimo canale Carp show Carp show E Insomma è un canale Che a me piace A 643 643 iscritti E complimenti E loro fanno E hanno fatto il rischio Il gusto Come a me Poi hanno fatto i video Reaction Epico Poi sponsorizzazioni Aspettate raga Che Io vorrei Che Mi sponsorizzano Raga Faccio una cosa Faccio una cosa Raga Siccome voglio essere Sponsorizzato Sponso Ok raga Iscrivetevi I carp show I carp show E Non ve ne mentirete Raga E complimenti I carp show I carp show Raga Perché hanno 646 iscritti Spero che il video S'ha piaciuto Se fosse così Raggiungiamo Mi dici mi piace Io Il prossimo sabato Sponsorizzo Alcuni di voi Raga Sapete che Sono finiti E' finito Diciamo La serie Sponsorizzazioni Fino ad ora Perché Raga Se questo video Mi dicono alcuni Hashtag Sponsorizzarmi Io Ovviamente Vi porto Il quarto episodio Se Raga Se nessuno Mi dice Hashtag Sponsorizzami O mi sponsorizzi Ehm Raga Non c'è Il quarto episodio E finisce qua Diciamo Poi non lo so Top un giorno Mi dicono Hashtag Sponsorizzami Non lo so raga Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate Il 10 mi piace Bella Vedi Crash Reel Spero Spero Spero